come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e poi come vi dico sempre mettetevi comodi perché qui sul mio canale le cose non si ascoltano ma si capiscono quindi partiamo subito con il primo argomento di oggi in questi ultimi due mesi che questi ultimi due mesi alcuni di voi mi hanno chiesto che cosa serve per poter ritirare la carta a di imposta allora partiamo subito da questo per ritirare la carta bisogna avere con sé ovviamente un documento di riconoscimento un documento di identità una carta di identità ovviamente in corso valido non scaduto oppure per esempio un passaporto e poi anche il codice fiscale quindi cosa succede che in questo modo quando voi andate in posta e gli date il codice fiscale e il documento di identità lumino cioè l'operatore dall'altra parte del bancone lumino delle poste dall'altra parte dello sportello può controllare che effettivamente il richiedente sia la persona che può ritirare la carta a di poi per la consegna quindi per andare a ritirare la carta non c'è bisogno di prenotare anche se in realtà mi hanno detto alcuni di voi mi hanno detto che qualche tempo fa che per fare prima andare in posta per evitarsi la coda per magari arrivare lì e trovarsi 50 60 persone che sono lì che aspettano di ritirare un euro ecco cosa hanno fatto hanno prenotato un appuntamento tramite l'applicazione delle poste diciamo che non è che uno arriva lì e tac passa subito è questo no però 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 diciamo che un pochino ci si mette un pochino meno ecco poi sempre rimanendo in tema l'altra domanda che ho ricevuto in questi ultimi tempi e questa per poter ritirare la carta devo per forza aspettare che arriva il sms sul telefono oppure posso andare anche senza averlo ricevuto ovviamente si parla di sms o di mail dipende un po da come comunica con voi l'inps si dice in giro ma vi dico subito che sono voci di corridoio è che il messaggio o l'email come vi ho detto che avvisa della possibilità di ritirare la carta di in teoria non sarebbe necessario quindi sempre in teoria se la domanda di adi è stata accolta e il pagamento è stato predisposto si può andare tranquillamente imposta a ritirare la carta senza aver ricevuto la comunicazione da parte dell'inps però vi ripeto se non voci di corridoio date dal fatto che alcuni di voi appunto hanno fatto così quindi praticamente cosa io vi riporto quello che hanno fatto gli altri hanno visto che c'era la disposizione del pagamento diceva beh allora vado in poste a vedere se mi danno la carta non so magari saranno stati fortunati io questo non posso saperlo diciamo che sarebbe meglio ecco diciamo questo sarebbe meglio aspettare che arriva l'SMS o l'email cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione anche per quest'anno il nostro governo ha confermato il trattamento integrativo che viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti e che ha sostituito quello che si chiama il bonus Renzi voi lo sapete dal primo di luglio del 2020 quindi sono già tre anni e mezzo più o meno facciamo così quattro anni ma arrotondiamo arrotondiamo per eccesso il bonus IRPEF ha cambiato gli importi che prima sapevate vi ricordate che erano di 80 euro al mese adesso viene calcolato in base alla fascia di reddito del beneficiario ed è destinato a varie categorie di persone tra cui lavoratori atipici lavoratori dipendenti disoccupati che prendono la Naspi ma la vera domanda a cui vogliamo rispondere visto che siamo nel periodo proprio clou interessante è questa come mai a sto punto non è ancora arrivato il pagamento partiamo dai requisiti perché intanto ci sono dei limiti di reddito che sono legate sono legati alle fasce di reddito sia come busta paga che come Naspi detto questo bisogna quindi capire quale categoria di fascia di reddito avete voi per vedere se effettivamente avete la giusta capienza di imposta sembra un termine strano però per capirlo è l'unico modo per l'unico modo di dirlo per capirlo ma non solo perché può anche capitare che nei mesi di dicembre e gennaio cosa succede l'inps effettua delle operazioni di conguaglio per ricalcolare l'importo esatto della prestazione integrativa da pagare quindi vi posso dare un consiglio semplice semplice intanto potete chiamare il centralino telefonico dell'inps e chiedere direttamente a loro come mai non vi è stato pagato se prendete la Naspi o anche fosse una busta paga non so facciamo anche fosse una busta paga potete chiedere direttamente a loro oppure potete farvi fare un ricalcolo della vostra situazione fiscale sia da un CAF o da un consulente fiscale oppure se se ve lo lasciano fare chiedere direttamente al consulente del lavoro per l'azienda per la quale lavorate e poi e poi se proprio proprio siete nella condizione giusta e avete tutti i requisiti per ricevere il pagamento potete sempre questo dovete ricordarvelo anche perché ormai siamo praticamente vicini ancora un mese più tempo neanche un mesetto potete sempre optare per recuperarlo nella dichiarazione dei redditi quindi o modello 730 o modello unico redditi che bisognerà poi inviare come vi ho detto a partire da marzo aprile in avanti per chi prende la Naspi dovete sapere che non bisogna inviare nessuna domanda all'Inps in quanto cosa succede è proprio l'Inps che opera come sostituto di imposta e quindi va a riconoscere il bonus automaticamente attenzione anche al fatto che il bonus Renzi può essere erogato qualche mese dopo rispetto al primo mese di pagamento della Naspi per chi è invece il lavoratore dipendente bisogna ricordare che il trattamento integrativo quello che è trattamento integrativo per non fare troppi pacciocchi dovrebbe essere pagato automaticamente in busta paga e per sapere se vi spetta l'unico modo è quello di contattare come vi ho detto prima sempre che ve lo lasciano fare perché non è che tutti i consulenti del lavoro lo fanno dovete contattare il consulente del lavoro il consulente paga della vostra azienda ovviamente sarebbe meglio chiedere il permesso al datore di lavoro perché comunque il consulente paga il consulente delle buste paga lavora per l'azienda non per i dipendenti quindi se ha un dipendente è un conto se un'azienda che ha 300 dipendenti e tutti i dipendenti si mettono a chiamare il consulente del lavoro quel poverino insomma alla fine passa le sue giornate a rispondere al telefono anziché farvi le buste paga ecco per quello che vi dico chiedete prima alla donna di lavoro se è possibile chiamarlo poi sempre in merito cambiando argomento sempre in merito al discorso 7 30 dichiarazioni dei redditi da quest'anno da quest'anno l'assegno unico entra nella dichiarazione pre compilata questo perché una volta la volta che questo assegno unico non è 50 anni che esiste pochi anni fino all'anno scorso l'assegno unico si ritrovava praticamente all'interno delle certificazioni uniche e se da quest'anno hanno deciso di metterlo dentro la dichiarazione pre compilata quindi come vi ho detto se in passato le certificazioni uniche aiutavano praticamente l'agenzia delle entrate a individuare i familiari a carico e quindi anche i figli fino a 21 anni di età ora venendo meno questo sistema di detrazione per loro la c u non contiene più questa informazione questo accade perché vabbè ovviamente è cambiata la legge e quindi sono cambiate le cose e da appunto dal 2023 in base alla nuova normativa i sostituti d'imposta non sono più tenuti a indicare nel prospetto della certificazione unica i famigliari a carico figli minori di 21 anni a parte a parte casi molto rari e particolari quindi in pratica cosa succede succede che da quest'anno l'agenzia delle entrate saprà saprà praticamente i dati dei familiari a carico saprò i dati dei familiari a carico in questo modo nel all'interno della dichiarazione dei redditi pre compilata sarà più chiaro sarà più chiaro di sarà più chiaro il quadro con il prospetto dei familiari a carico e il periodo di fruizione nell'anno precedente sarà più chiaro vabbè mettiamola sotto questo aspetto poi siamo arrivati già a 11 minuti di video io volevo parlarvi della dichiarazione di responsabilità e i ricoveri indennizzati per alcune categorie di persone però siccome che come ho detto siamo a 11 minuti non voglio far diventare questo video troppo lungo quindi a questo punto questo argomento ve lo metterò poi all'interno di un altro video quindi con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube e attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube a presto ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti